Un uomo buono, un pezzo di pane, un uomo umile, così veniva definito Francesco De Florio De Grandis. Per tutti Cicillo, il pittore della notte, amava dipingere soprattutto di notte. E i suoi quadri sono nelle case di molti lancianesi. 72 anni, questa mattina intorno alle 8, lui è sceso qui per farsi la consueta passeggiata domenicale, ma improvvisamente ed inspiegabilmente è stato freddato da colpi di pistola. Chi ha sentito, ha sentito più di 10 colpi. Sì, sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lanciano. Tanto dolore in tutto il quartiere, in chi lo conosceva di persona ma anche di vista, perché, ripeto, lo conoscevano come una persona buona. Tanto dolore per i tre figli, Franco, Roberto, Carmine, per la moglie, Licia. Un gesto che non si riesce a spiegare, un quartiere la cui tranquillità di domenica mattina è stata turbata da questa tragedia. Il presunto autore del gesto è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Lanciano, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Orlando. Si tratta di un 71enne, amleto Petro Semolo, che vive nello stesso palazzo della vittima. L'uomo è stato raggiunto dai carabinieri in casa di amici e l'arma, una calibro 9 semiautomatica regolarmente detenuta, è stata trovata e sequestrata su una ringhiera vicino al posto dove si era consumata la tragedia. Le indagini sono dirette dal PM Serena Rossi. Petro Semolo è in stato di fermo, indiziato di omicidio volontario. Con l'arma ha sparato una decina di proiettili, di cui 4 e 5 hanno colpito il povero De Grandis alla schiena. Un gesto nato sembrerebbe da futili motivi che ha lasciato tutti sgomenti.